Un parco giochi a tema archeologico e con uno sguardo all'ambiente e alla sostenibilità. E' questa la proposta che l'Associazione Lega Ambiente di Capaccio Pestum e il Parco archeologico mettono in campo per rendere il sito unesco più accattivante per i visitatori piccoli che rappresentano quasi la metà del pubblico che ogni anno arriva a Pestum da tutto il mondo, dato costantemente in crescita. Il Parco dei Piccoli, collocato sul lato est dei due grandi templi Basilica e Nettuno, consiste in dieci strutture che riproducono alcuni dei più famosi giochi di logica e strategia dell'antichità, ma anche alcune macchine da cantiere utilizzate per la costruzione dei tre templi dorici di Pestum. Non manca la vita idraulica di Archimede. L'allestimento è inserito nel percorso di visita del sito archeologico ed è corredato da pannelli esplicativi e da panchine dove i genitori possono rilassarsi al cospetto dei monumenti millenari con uno sguardo vigile ai loro figli, che giocando scoprono alcuni aspetti di storia archeologica antica. Il museo come istituzione pubblica nasce nell'Ottocento per un pubblico di adulti colti, spiega il direttore Gabriel Zuchtrigel. Oggi invece vogliamo offrire un'esperienza culturalmente arricchente per tutti, per cui ci impegniamo a rendere il sito più accessibile per i bambini, ma anche per le persone con disabilità. Il gioco coinvolge tutti i sensi ed è uno strumento da non sottovalutare per la trasmissione di conoscenze. Esso è uno stimolo per la creatività di piccoli e grandi. Il passato ci può insegnare molte cose, anche per il futuro, per esempio in merito alla sostenibilità ambientale. Atteso per l'inaugurazione in data 27 gennaio alle ore 11 presso l'ingresso di porta principale, anche il presidente nazionale di Lega Ambiente Stefano Ciafani, che ha voluto sostenere l'iniziativa del Circolo Pestano.